il giro avventura è così e devi trovare la strada e non puoi averla già pronta qua è tutto così devi creartela e la sua non è mal faccia si può andare anche lì sotto però tu puoi passare che è più comodo c'è quel buchetto lì ma ne pensi avevamo messo qua tutti i pezzi figaro li ha tolti tutti aspetta che ne buttiamo dentro uno ascolta no è troppo figaro qua che cazzo che è perché vedi abbiamo pulito via tutto qua però qua l'avevamo praticamente la stricata ma aspetta 3 2 1 vai già mi piace già di più eh oh no tutto qui sono lì sono lì piatto eh figaro ma che non sei questo questo no quello aspetta 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 andate a metter questo qua nel blu qua ci voleva il gargamella è lui che è il mago da spostare queste robe eh figaro non lo fai quello boh aspetta aspetta uno due vai oppa pitch vai Ale è peggio che è peggio eh adesso lo appoggiamo momento cazzo aspetta che vengo giù anch'io no che va bene cazzo sei volante figaro si muove eh vediamolo di qua uno due vai uno due vai boh un altro qua davanti siamo quasi a posto così già è meglio eh così è fattibile così va bene dobbiamo arrivare fino a dopo quella ansa là figaro tu pensa che cosa cazzo verrà giù di qua fra un po' verrà giù il mondo qua verrà giù il mondo sì ma loro l'hanno fatto tutto l'anno scorso guarda cosa c'è qua guarda cosa cazzo verrà giù di qua di via tutti i sospetti, non si può tu perchè sei qua non si ti fai in mezzo e magari riparti sempre peggio mamma mia figaro che bordello che ha fatto qua ripassare sulla destra allora un po' paura del buco se vado dentro vado dentro vado sicuramente giù così non penso proprio decisamente sì io la vedo di qua dici che non sa oh la chiediamo poi ma anche lì abbiamo messo a porto figaro abbiamo riempito quello oh ha spostato anche quello lì forza trota ma hai perso il cavalletto Ale hai perso il cavalletto guarda esatto è di un viscido che anche se provi a dargli forte ma poi va a finire vedesci che cadi più dai che che semmi questi li han fatti su cent'anni fa non li han ceduto quelli un anno fa oh la rete però eh siamo arrivati dobbiamo andare su di lì come fai Luca io ti ti imprima sto facendo per forza il secondo figaro va via com'è comunque tanta roba sì è vero è un po' pesante io capisco ma dove ti aiuta di bestia di là Luca di qua di qua va bene sto soffocando dobbiamo girar su eh Luca lì avanti alla curva stavo morendo di caldo non è che è cambiato molto ma va bene